Ci troviamo a Legnano, città alle porte di Milano, che ha visto fra i suoi concittadini famosi del Novecento un grande attore, che vedete alle mie spalle la statua che lo ricorda, è il signor Felice Musazzi, ovvero la Teresa dei Legnanesi, una persona che io ho avuto il piacere non solo di conoscere, ma di lavorare insieme a lui per oltre 10 anni. Ma chi è la Felice Musazzi? È un attore di teatro che però ha portato nel teatro una grande novità, la storia dei poveri Cristi, infatti i suoi legnanesi vivevano nei cortili, nelle care vecchie corti dove si consumavano i drammi, i litigi, la felicità dei poveri Cristi e lui per oltre 50 anni è stato un attore che raccontava questo mondo e la città di Legnano nel centenario della sua nascita gli ha regalato una mostra e tante iniziative due ve le voglio ricordare perché sono già in programma, una sarà il 21 agosto presso il castello di Legnano dove andrà in scena Chi è di scena? Uno spettacolo teatrale che riassume il Novecento e sempre a Legnano dal 4 settembre presso la famiglia legnanese ci sarà una mostra sempre dedicata al teatro del Novecento dove ricordiamo Felice Musazzi è stato uno dei grandi protagonisti.